Il consigliere non era quella che erano le considerazioni da parte dei suoi collaboratori, però poi aveva saputo anche che non era stata ritenuta utile la stessa, ma questo poi sarà motivo di ulteriori approfondimenti. Ma Napolitano cosa ha detto di D'Ambrosio? Sì, allora ha riferito ovviamente di una profonda stima verso il consigliere, persona che ha detto essere stata immeritatamente presa d'attacco, perché proprio ci ha parlato dello stato d'animo, di ansia del D'Ambrosio. Però sui passaggi singoli della lettera effettivamente non ci ha fornito un contributo ulteriore rispetto a quello che potevamo sapere. Nemmeno sulle intercettazioni? No, 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 quelle non sono state oggette e non potevano essere oggette della testimonianza, anche perché è intervenuta proprio una sentenza della corte costituzionale. Quindi su questo non si è assolutamente pronunciato. E non ha detto neanche se si sono parlati poi?